Buongiorno, mi sono alzata prestissimo per fare questo video perché oggi è il 31 quindi è l'ultimo giorno dell'anno e dal primo gennaio ho fatto quest'anno una cosa molto pazza, molto particolare ho registrato un secondo di video per tutti i giorni partendo dal primo gennaio e arrivando al 31 dicembre quello che è uscito per me è una cosa veramente bellissima specialmente in quest'anno che Dante è cresciuto perché siamo partiti da gennaio che non aveva nemmeno due mesi per arrivare a dicembre che invece ne ha ben 14, quasi 15 bellissimo raga, per me che l'ho rivisto oggi tutto insieme è una cosa davvero emozionante e ho deciso di condividerlo perché so che per tanti di voi la nostra famiglia è una cosa importante nella vostra vita e quindi per me voi siete parte della mia famiglia ed è giusto che anche voi lo vediate poi che vi interessi o no quello lo vedrete voi ma sono sicura che tantissimi di voi lo apprezzeranno io vi ringrazio per essere parte di noi perché voi siete veramente parte di noi, quello che facciamo lo facciamo sia perché ci piace ma specialmente per rendervi partecipi perché come ho già detto siete un po' i miei fratelli grandi e piccoli anzi alcuni molto più grandi e alcuni anche molto più piccoli quindi vi lascio il video che è bellissimo non ho molto altro da aggiungere se non che ci vediamo nel 2024 che sarà un altro anno davvero pieno di emozioni super pieno di emozioni, forse anche un po' difficile vi ringrazio tanto per essere stati con noi buon video bravo 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 guarda bravo Elefanti le elefanti! Ciao! Sorrisone! Salutateli! Troppo olif! Perdi il mio intacchiarissimo! Ma che risoletile! Sì! Ciao! Ciao! Bella! C'è il diritto! No, non c'è no! Ehi! Sono fatti! Non puoi andare! Volevo di... Eh? Andiamo? Amore e gli spaghetti! Non puoi stare. Che vuoi dire? Ehi! Mi sono... Ehi! Ehi! Che... bravo 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 grazie bravo me l'hai rubata? grazie ciao nonna sto intrattenendo mio figlio grazie 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 auguri grazie 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 grazie